Queste sono le famose plafoniere. 843.000 euro in più, tanto sta spendendo la regione Puglia per queste plafoniere, diverse da quelle previste nel progetto esecutivo, che erano a Neon e complessivamente sarebbero costate 200.000 euro, da un minimo di 52 a un massimo di 216 euro a pezzo. Le nuove plafoniere a LED sono tutte uguali e costano la bellezza di 637 euro, che moltiplicati per 1.637 pezzi fanno 1.042.949 euro. La scelta la fa la direzione lavori. A imporre un cambio di rotta sono le norme uni, quelle sui criteri ambientali minimi e quelle sul risparmio energetico. Dovendo cambiare, l'architetto Mirizzi e i suoi consulenti hanno scelto una lampada esteticamente adeguata all'immobile, ma soprattutto tecnologicamente avanzata, con prestazioni migliori. Secondo le loro stime, ad esempio, consentirà un risparmio di circa 120.000 euro all'anno, che in 20 anni di vita di un LED diventano un milione e mezzo. E inoltre conforme alle norme sulla sicurezza sul posto del lavoro. È una plafoniera a LED singoli e non a strisce di LED, quindi in caso di guasto non va sostituita per intero e non si spegne. Queste si possono aprire, sono apribili e si possono... Sostituire? Sì, sì. Quindi se si fulmina una di queste si può sostituire. E' anche dotata di dimmer, che permette di regolare l'intensità della luce a seconda della luce esterna. Le caratteristiche scelte dalla Direzione dei Lavori sono quelle di un articolo dell'azienda Regent, a cui lo studio dell'architetto Mirizzi ha chiesto un'offerta il 19 ottobre 2015, specificando che era per un capitolato della Regione Puglia. Regent ha risposto indicando in 750 euro il costo dell'apparecchio in questione. Viene dunque messo un ordine di servizio, il numero 26, che è lo strumento con cui il Direttore dei Lavori ordina i materiali all'impresa di costruzione. Mirizzi chiede a Guastamacchia la fornitura e posi in opera di un apparecchio tipo DIME LED della Regent, o un equivalente, così come previsto dalle norme sugli appalti pubblici. E dice anche quanto questo prodotto deve costare. Si parte dai 754 euro del prezzo fatto da Regent per arrivare a 1.222 euro, comprendendo il trasporto, l'installazione e tutte le spese previste dalla legge. Sull'appalto però vige un ribasso del 41,75%. Il costo della plafoniera dunque scende da 1.222 a 637 euro. Questo la Direzione dei Lavori è disposta a pagare all'impresa, non un euro in più. Guastamacchia sa dunque che quella lampada gli costerà al massimo 637 euro, ma naturalmente prova a spuntare un prezzo migliore. E così contatta l'agente di zona per Puglia e Basilicata della Regent. Chiede un preventivo, che viene regolarmente prodotto, ma poi riesce a trovare un'altra azienda, l'austriaca Zum Tobel, da cui spunta un prezzo migliore e caratteristiche tecniche superiori alla lampada individuata dalla Direzione Lavori, che approva la scelta. All'impresa è costata meno, uno sconto che grossomodo compensa il ribasso di gara del 41,75%. Cento.